Ciao ragazzi, oggi sono qui per parlarvi dei miei mai più senza, ovvero quei prodotti che mi hanno migliorato tra tantissime virgolette la vita quindi dei prodotti di cui io proprio non posso più farne a meno, non sono prodotti di make up ma sono più che altro prodotti di beauty il primo prodotto di cui vi parlo è assolutamente il Foreo Luna Mini 2, questo qua, questa era la confezione e questo è il prodotto ve ne ho già parlato varie volte, vi ho fatto vedere anche il video della mia skincare routine utilizzando questo prodotto però ogni volta che lo nomino, magari anche su Instagram o lo faccio vedere, spesso mi chiedete ma preferisci questo o preferisci il Clarisonic? Quali tra i due ti piace di più? Io assolutamente il Foreo tra l'altro io il Clarisonic non ce l'ho più, l'ho venduto, sono contentissima di averlo dato via perché comunque il Clarisonic non lo usavo più da quando avevo il Foreo per me questo qui è assolutamente migliore ma per il mio tipo di pelle, che è una pelle sì mista ma molto molto delicata e sensibile il Clarisonic anche con la testina Kashmir mi irritava la pelle, non riuscivo a utilizzarlo e insomma alla fine il mio amore è andato per il Foreo tra l'altro questo qua è stanno in silicone, una volta che praticamente lo acquisti non dovete cambiare le testine come ad esempio succede con il Clarisonic ma lo trovo assolutamente molto più igienico la batteria dura tantissimo, quello che ho io è quello più piccolino perché poi c'è anche un'altra versione del Foreo che costa se non sbaglio il doppio che è un po' più grande e dall'altra parte dietro ha la versione massaggio invece questo è per tutti i tipi di pelle, quindi in questo lato che è quello che utilizzo io i dentini in silicone sono molto più sottili mentre qua sono più spessi e quindi è adatto anche per le pelli grasse io però lo uso solo da questo lato mi piace da impazzire perché è efficace ma al tempo stesso molto delicato lo uso ogni sera, adesso l'ho ripreso ad utilizzare e ho notato subito la differenza perché la mia pelle è molto più sottile, più liscia ovviamente i brufoli se li avete non è che ve li fa sparire però la grana della pelle si alliscia moltissimo anche sotto non sentite più quei brufolettini fastidiosi insomma lo amo nel periodo luglio-agosto di solito io lo abbandono un po' perché non ne sento tanto la necessità però poi lo riprendo verso fine settembre e non lo mollo più per tutto l'inverno lo utilizzo la sera di solito con una mousse detergente e tra l'altro se fate spesa all'esse lunga adesso lo trovate anche nel catalogo dei punti quindi fateci un pensiero se soprattutto fate spesa spesso all'esse lunga mi raccomando fateci un pensiero perché secondo me ne vale assolutamente la pena questo mi era stato inviato mentre il Foreo l'avevo comprato io e niente praticamente per me il Clarisonic è adatto per una pelle normale sì anche secca, anche grassa però non particolarmente sensibile almeno per me è stata così poi ovviamente ogni tipo di pelle è differente altro prodotto di cui non posso assolutamente farne a meno e rimaniamo sempre nel tema detersione è la spugna di mare, cosa della natura questa è ancora nuova ma la andrò ad aprire subito perché la mini taglia che avevo ricevuto al sana è già terminata quindi questa qua l'ho ricomprata e io non posso assolutamente più vivere senza questa invece la uso al mattino mentre il Foreo l'uso alla sera c'è anche scritto qua il prezzo l'ho pagata a 13,50 euro in una bioprofumeria veramente mai più senza io tra l'altro ne ho provate altre di spugne di mare ma questa delle cose della natura per me è assolutamente la migliore questa qui è la qualità fine d'ama sbiancata ed è veramente una coccola molto soffice io ci metto sopra il detergente e poi mi passo la spugna su tutto il viso e sì è una coccola ma al tempo stesso è un prodotto che aiuta anche a pulire il viso amore folle un prodotto che devo sempre avere in casa è il tea tree oil o comunque è un prodotto per i brufoletti io amo follemente ormai da tanto tempo l'organic tea tree oil blemish stick di dottor organica infatti ce l'ho da tantissimo ma dura anche tantissimo e questo è roll on all'interno l'aloe, il tea tree oil mi piace tantissimo e lo trovo molto molto efficace soprattutto per i brufoletti sotto pelle quelli che magari li sentite che vi grattano un pochino applicate questo qui, li sfiamma e il giorno dopo non lo avete più lo amo follemente questo ultimamente ho anche ricevuto questo qua da Fidia Beauty che è lo Spot On Treatment di Bion Me questo invece lo trovo davvero molto efficace però per i brufoli che sono già fuori perché li secca questo come ingredienti oltre ad avere l'aloe al primo posto, altri estratti eccetera anche il tea tree oil però questo è un gel e lo trovo più efficace appunto per i brufoli che sono già usciti perché li secca tantissimo io quasi non ci credevo vabbè fatto così con un tuvetto ed è appunto in gel io quasi non ci credevo ma effettivamente è davvero molto molto efficace un po' di tempo fa avevo uno sfogo qui sul mento e ho proprio preso il gel l'ho messo su tutto il mento e mi aveva seccato parecchio la zona quindi state attenti prendete proprio il prodotto e applicatelo solo sul brufolo perché secca parecchio quindi devo dire che come prima impressione ma poi ovviamente ve ne parlerò anche meglio al momento mi sta piacendo tantissimo altro prodotto che non deve mai mancare in casa che ora 83 è la pasta protettiva all'ossido di zinco questo è baby quindi questo è un tipo di prodotto che studiano per i bambini lo mettono le mamme ai bambini per le irritazioni del pannolino ma questo è un prodotto che va bene per qualsiasi tipo di irritazione in qualsiasi zona del corpo e soprattutto in inverno è un prodotto che non deve mai mancare questo ce l'ho da un po' e lo trovo validissimo l'ho trovato alla coppia di questa marca Belta Bios che non conosco assolutamente comunque è testato su pelli sensibili ed è anche certificato ICEA questa è la confezione tra l'altro un tubetto bello grande da 100 ml all'interno appunto l'ossido di zinco e vi assicuro che se avete un'irritazione vi mettete questo prodotto e il giorno dopo non avete più niente è fatto proprio in questo modo ve lo volevo far vedere è una pasta bianca fatta così non vi ricordo assolutamente il prezzo ma tra i 5 e i 7 euro più o meno soprattutto se avete i bimbi non potete non comprare questo prodotto e se anche avete delle irritazioni eccetera non può mai mancare per me in casa questo poi assolutamente un mai più senza per me è questo detergente intimo della Gino Canesten di questo vi ho già parlato nel video dei prodotti terminati però ci tenevo a parlarvene anche qui perché è veramente un prodotto validissimo io ce l'ho e lo compro sempre nella versione lenitiva però c'è anche in quella protettiva e ve lo dico sempre anche nei prodotti terminati mi ha fatto passare una piccola irritazione che avevo da quando uso questo detergente intimo non ce l'ho più sparita completamente una di voi mi ha scritto recentemente su Instagram dicendomi che l'aveva comprato e mi ringraziava perché anche a lei era sparita l'irritazione quindi davvero validissimo questo prodotto non costa poco perché viene 8 euro ma su internet e in alcuni siti è spesso scontato anche di 5 euro quindi davvero fateci un pensiero se soffrite un po' di irritazione ma diciamo siamo donne io ad esempio prima prendevo il Neutromed che costava 2 euro mi sembrava anche un buon prodotto però evidentemente no evidentemente avevo bisogno di qualcosa di un po' più non so, più efficace ecco quindi su alcune zone secondo me non conviene tanto risparmiare ma conviene prendere proprio prodotti validi ultimi prodotti mai più senza permesso sono questi rasoi della Wilkinson questo ve lo ricorderete sicuramente mi era stato inviato boh ormai due anni fa e io da allora non ho mai smesso di utilizzarlo mi piace tantissimo è un rasoio per la zona bikini per tosare l'aiuola è perfetto veramente anche perché magari prima usavo il rasoio e mi irritava la zona mi prudeva eccetera invece con questo qui è fantastico ha praticamente questa parte in cui potete comprare la ricarica è praticamente un rasoio semplice e infatti non ho più comprato questa ricarica ma questo qui è un po' scarica la batteria è favoloso per quella zona veramente io finora ho comprato solo due batterie all'interno appunto c'è la batteria è comodissimo pratico da utilizzare veramente mai più senza per me ultimo prodotto è questo anche questo ne è stato inviato ma mi è piaciuto talmente tanto che ultimamente con lo sconto del 20% ho comprato anche le ricariche questo è il miglior rasoio che io abbia mai provato ed è l'Hydro Silk della Wilkinson perché mi permette di radermi anche le gambe senza poi utilizzare non so il sapone o altro prodotto perché le ricariche all'interno hanno il burro di karité vedete c'è scritto qui hanno il burro di karité all'interno e quindi a contatto con l'acqua non fanno schiuma non fanno sapone ma non fanno irritare la zona ma anzi la ammorbidiscono quindi ottimo veramente ottimo rasoio anche questo non costa poco perché le ricariche costano 10 euro circa per 3 però appunto io con lo sconto del 20% le ho volute assolutamente comprare soprattutto per le gambe sono favolose rispetto all'altro sempre della Wilkinson vi metto qua la foto perché ora non ricordo il nome questo toglie i peli assolutamente molto di più è molto più efficace rispetto all'altro ma allo stesso tempo molto delicato quindi ragazze questi erano i miei mai più senza fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri e quindi spero possano esservi utili questi piccoli consigli io vi mando un grossissimo bacio grazie per aver visto il video e alla prossima ciao Grazie per la visione!